ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi nuovo video e niente questa qui è una copertura fatta su mia mamma lei ha le unghie molto molto difficili quindi scusate mi sono venute perfettissime e ha ricostruito solo tre unghie e quindi la copertura e sto usando questo bellissimo colore magic blu si chiama che è un tale effetto cat eye che sarebbe effetto dell'occhio diciamo come l'occhio del gatto ed è stupendo questa è la prima passata dopo darò una seconda passata alla fine userò il magnete per fare questo bellissimo effetto cat eye ovviamente il colore di passione unghie infine andrò ad applicare ovviamente lucido come sempre l'ultra gloss e l'olio cuticole se il video vi piacerà metterete un pollice in su se volete sotto il video e commentate io vi lascio al video ci vediamo presto al prossimo video un bacio ciao 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 ciao